Cromo nei terreni di riporto dei lavori stradali della Provinciale 7 di Piantravigne, questo l'inquietante dubbio che è emerso dagli esiti dei controlli annuali previsti nell'ambito del piano di sorveglianza e controllo della discarica di podere rota realizzati da CSAI. La presenza di cromo e cromo esavalente è stata rilevata in un pozzetto esterno. In quest'area ci troviamo a monte della discarica. Si tratta di un piezometro che è un pozzo di controllo delle acque sotterranee. CSAI ha voluto così effettuare ulteriori approfondimenti. Abbiamo immediatamente attivato la società che gestisce il nostro piano di sorveglianza e controllo che ha fatto ulteriori verifiche intanto per capire l'entità di questa contaminazione e se vi fossero relazioni con l'attività di discarica. Questo è stato escluso mentre invece abbiamo rilevato da ulteriori indagini che ci può essere anzi praticamente certo una correlazione con l'attività di costruzione della nuova viabilità fatta nei dintorni della discarica. I vertici di CSAI hanno quindi presentato denuncia contro ignoti presso la direzione distrettuale antimafia di Firenze alla luce dell'inchiesta sullo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di Cheu in opere stradali costruite in Toscana negli ultimi anni. Affinché venga chiarito quale sia in effetti la correlazione e quale sia la problematica. Come società ci siamo attivati immediatamente per dare seguito a delle attività di prevenzione, quindi intensificazione delle analisi delle acque, verifica delle acque nei dintorni, quindi su tutti i piezometri lungo la strada dove non abbiamo rilevato altre presenze di contaminanti e quindi riteniamo che sia circoscritto il problema dell'inquinamento.